Marco Gianbruno, portiere dell'FC Ponzacco, oggi ha sostituito Cappellini, purtroppo però è stata una partita un po' particolare. Quattro gol subiti, tutti gol in situazioni strane, punizioni, tiri, palo, gol. Insomma, come ci spieghi un po' soprattutto il secondo tempo che è stato un po' disarmante? Guarda, forse quando vai a riposo sul 4-1 un po' mentalmente ti porta a allentare un po' la tensione e poi a causa degli episodi che si sono presentati ne prendi uno, ne prendi un altro. Poi siamo anche stati sfortunati, dispiace perché poteva essere una partita più tranquilla. Comunque sia l'importante è avere raggiunto l'obiettivo che era quello dei tre punti, della vittoria. Personalmente da portiere ti dico che prendere quattro gol dopo tanto che non facevo 90 minuti dispiace. Però purtroppo sono partite e sono caratterizzate dagli episodi. Alla fine quello che conta ripete il risultato e va bene, andiamo avanti con i tre punti in più. Ecco, mercoledì il passaggio è quarto di finale di Coppa Italia. In caso di vittoria domenica e la sconfitta di Pesasanta si potrebbe già festeggiare a Serie D e poi concentrarci sulla Coppa Italia che è un appuntamento importante per fare il classico triplete come hanno fatto Via Reggio e Tutto Coio negli anni passati. È l'obiettivo, è il nostro obiettivo arrivare fino in fondo e vincere tutto. Ovviamente affrontiamo partita per partita, comunque sia in campionato fin quando non abbiamo la matematica certezza non dobbiamo sicuramente mollare la tensione e non dobbiamo lasciare i tre punti e dobbiamo sicuramente vincere tutte le partite. Per quanto riguarda la Coppa sarebbe una bella emozione portarla a casa dopo aver vinto quella toscana sarebbe il coronamento di un anno che dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.